Lo chiamiamo istituto penale per minore, la decisione esatta è questa, poi certe volte, tante persone non sanno che cos'è l'istituto penale minore, il divino del carcere, l'ambiente del carcere, bisogna rispettare le regole che entri qui dentro. Trattamento e sicurezza sono assolutamente la stessa cosa, all'interno di un istituto non solo la Polizia Meditenziaria fa sicurezza, ma fondamentalmente tutti gli operatori. Quello che è fondamentale è creare una relazione con i ragazzi, creare con loro un'empatia che deve nascere affinché poi possa avvenire l'apprendimento vero e proprio. Non sono i loro, sono i loro, devi cercare di capire quale devi arrivare. Qui io dico sempre che chi viene qui, questo non è uno zoo, perciò non si viene a visita allo zoo, chi viene qui deve dare un contributo, se tu vuoi fare il volontario, lo puoi anche fare il volontario, ma devi dare un contributo. Intanto viene fuori l'aspetto meraviglioso della multicultura, dei multicolori, delle diverse etnie, se così si possono definire. Quindi noi è chiaro che abbiamo il mondo del Nord Africa, che suona determinate percussioni in un certo modo, piuttosto che da altre parti del mondo. Il mondo è il mondo è il mondo è il mondo. Ci sono tutti i reati più o meno degli adulti. Poi hanno scritto che io l'ho minacciato e lo volevo pecchiare e lo volevo prendere soldi, però non fa niente. Io volevo fare bene e alla fine non ho capito male. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.